Il tal quale sulle nostre terre, che sono tra le altre cose sensibili. Si può fare? Si può fare? Senti, si può fare? No, questo si può fare, ma per la vent'altra lo stiamo già facendo, perché come diceva anche prima il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, al momento noi non abbiamo esigenza più di promulgare altre ordinanze né da parte del sindaco, né da parte del presidente della provincia, né da parte del presidente della regione. Ognuno per le proprie competenze all'interno del territorio, o comunale, o provinciale, o addirittura regionale. Non c'è più questa esigenza, perché superato la grande fase di criticità di cui parlava prima il sindaco De Magistris, oggi noi abbiamo un ciclo in sostanziale equilibrio, precario, fragile, fin quanto si vuole, ma è un ciclo in equilibrio che deve mantenersi in questo modo per gli anni che ci servono per realizzare gli impianti di trattamento finale. Naturalmente ci sono bisogno di approfondire molto, però passiamo un giro d'Italia, no? Dobbiamo ancora andare a raccontare che sta capitando a Firenze, perché lì stanno facendo operazioni anche sull'armo. Intrecciamo le storie, insomma, qui Napoli periterebbe sempre il capitolo in molto a parte, ma insomma, andiamo a vedere cosa capita a Firenze, prego. Anche a meno di più che a volte ha bisogno di essere ripulito, soprattutto se... a Firenze